Ci voleva una scossa in trasferta e finalmente è arrivata. Tonno Calipo Calabria divora il campo di Cantù e si porta a casa tre punti fondamentali. La vittoria in esterna mancava dallo scorso 17 gennaio in quel di Siena, poi una caduta dopo l'altra con i gelorossi che fuori dalle murami che non sono riusciti fino a ieri a concretizzare. Nell'undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A2 Unipol 6, Tonno Calipo vince, si diverte e diverte ma soprattutto convince e torna a dare poderosi colpi di pinna anche fuori casa. Tre punti scaturiti da una prestazione eccellente di Casoli e compagni che sono tornati a mostrare sul campo un'ottima palla a volo fatta di giocate di qualità e di tanta determinazione nella fase break con una serie impressionante di muri realizzati. Cantù veniva da un periodo di alti e bassi e nulla ha potuto contro la fame di punti dei calabresi trascinati da un eclettico Pinelli migliore tra i suoi. I tre attaccanti giallorossi infatti sono andati tutti in doppia cifra, ben ispirati dal regista giallorosso. Capitan Casoli ha chiuso il match con 15 punti, Mikhailovic con 16, mentre Vedovotto con 12. Da segnalare anche una prestazione d'oro di Forni ancora super a muro con 6 blocks realizzati e con la squadra capace di andare a siglare un totale di 16 muri in 3 set. A Cantuno ne è bastato giocare una partita alla pari nel corso dei primi due set che sono stati abbastanza equilibrati e vinti da Tonno Calipo per 23-25 e 24-26. Nel terzo i padroni di casa hanno avuto una resa terribile e hanno soltanto potuto gettare la spugna sul 16-25. Con questa vittoria la Tonno Calipo respinge l'assalto di sola al primo posto vittoriosa a Castellana Grotte e mantiene a quota 54 punti la vetta della classifica con una lunghezza di vantaggio sulla compagine Ciociara. Domenica prossima ultimo turno casalingo della regular season al Palavalenza a partire dalle 18 contro Castellana Grotte.